Michele Gianella Revisore Allora, ben arrivati. Allora, abbiamo detto c'è un problema di mismatch occupazionale, cioè c'è una differenza, un disallineamento fra offerta di lavoro e preparazione dei giovani. Io vorrei iniziare dal presidente Celli a chiederle quali sono le figure che adesso il mondo del lavoro richiede? Domanda malposta, bisognerebbe chiedersi... Strano, iniziamo bene, perfetto. E abbiamo finito, vi ringrazio, siete molto carini. Lo sapevo, eravamo ostica. Bisognerebbe chiedere quali sono le figure professionali che richiederà domani mattina, dopo domani, dopo domani ancora. Perché quelle di oggi in gran parte sono in transito. E quindi se uno si regola sulle domande di oggi, con ogni probabilità, quando arriveranno le risorse per i problemi di oggi, i problemi saranno già cambiati e le risorse non saranno più sufficienti, non saranno più adatte. Quindi il problema reale è immaginare come evolveranno le competenze necessarie e i bisogni nei prossimi quantomeno 10-15 anni. E per farlo, noi inevitabilmente dobbiamo partire dalla scuola, da una parte, ma chi ce l'ha pochissime informazioni. Dall'altra parte dobbiamo partire dai mercati e come vanno i mercati. Perché a guidare la trasformazione sono i mercati e le tecnologie. Noi abbiamo sempre pensato che le tecnologie fossero uno strumento. Hanno smesso di essere uno strumento molto presto. Noi li abbiamo usati come strumento in termini di efficienza. Riducevano i tempi, ci aiutavano. Il computer l'ho fatto per tanti anni. Oggi le tecnologie guidano i processi. guidano i processi, sono del tutto autonome dai bisogni immediati. Creano semmai bisogni futuri. E quindi da questo punto di vista, seguire le tecnologie significa seguire qualcosa che è un attore attorno al tavolo. Ed è importante riuscire non solo a capirlo e a coinvolgerlo, ma a interpretarlo anche. Come è necessario interpretare i mercati? Il trend dei mercati è abbastanza conosciuto, esplorato, eccetera, eccetera. Ma ci sono dei trend che sono assolutamente incontrollabili ormai. E quindi non ingovernabili se non alla rincorsa. Oggi le tecnologie rendono i mercati totalmente diversi da un tempo. Le tecnologie hanno abolito lo spazio del tempo. Avendo abolito lo spazio del tempo, sono quelle che hanno abolito i confini. E quando tu abolisci i confini, o hai le persone che sono adatte a passare dall'altra parte, a attraversare il confine, oppure tu sei morto, come diceva in un film molto bello di tanti anni fa, Angelopoulos, Il passo sospeso da Cicone. Quando si attraversa un confine, o sei un altro o sei morto, noi rischiamo di essere morti, perché i confini ormai bisogna attraversare inevitabilmente, perché stanno scomparendo. O al massimo si pongono attorno a ciascuno di noi. Quello che noi perdiamo di confine e di frontiera fuori, lo acquisiamo con questo individualismo costitutivo che ormai viene sollecitato in termini difensivi rispetto a un mondo che non si capisce, e creiamo le barriere attorno di noi, attorno al nostro gruppo di riferimento, che è quello che poi ci interessa, e non capiamo dove vanno le cose. Quindi per essere sintetici e non parlare troppo. La tecnologia cambia moltissimo la situazione. Cambiando i confini cambia il tempo e lo spazio. Noi eravamo abituati a dare un'identità a noi stessi e ai nostri gruppi all'interno di uno spazio-tempo che era definito. Oggi non è più così. E poi vedremo le conseguenze. La seconda cosa, la tecnologia oggi è un attore, non può essere trattata come uno strumento. La tecnologia batte il tempo. E se noi non siamo in grado di cogliere il tempo che batte la tecnologia, noi saremo battuti sul tempo e usciremo di mercato. Le nuove professioni vanno viste all'interno di questo contesto. Questo è il quadro all'interno del quale vanno considerate le nuove professioni. che non sono solo professioni di tipo tecnologico. Sono professioni anche di tipo molto manuale. Anche perché se le conoscenze, per tornare al tema, si trasmettono, le competenze si acquisiscono. e per acquisirle ci vuole fatica. E per la fatica massima si fa quando si sperimenta anche con le mani le cose che devono essere costruite. C'è una saggezza delle mani che noi abbiamo dimenticato e che quindi andrebbe rinserita nelle scuole, non solo perché l'alternanza scuola-lavoro molto spesso non funziona semplicemente perché non ci si capisce o le imprese sono distratte. Ma se noi inserissimo anche attività manuale all'interno di scuole che sono teoriche per definizione, noi faremo un grande favore a quelli che poi, entrando nel mondo del lavoro, devono sapere maneggiare le cose, maneggiare le conoscenze, maneggiare le competenze, maneggiare le situazioni, eccetera, eccetera, e avendo riacquistato una sensibilità anche nelle mani, perché quando maneggi le mani le cose le accarezzi da tutti i punti di vista e tutto quello che tocchi davanti non è la stessa cosa che tocchi di dietro, le sensazioni sono diverse, le percezioni che ti guardano sono diverse. Noi abbiamo bisogno di togliere astrattezza a quello che insegniamo, facendo sì che i nostri ragazzi in qualche modo mettono i piedi per terra e comincino a calpestare anche la terra dura. Benini, come i nostri ragazzi acquisiscono competenza ai tempi della tecnologia e i nostri ragazzi sono pronti a questo mercato che cambia, mercato del lavoro? È una sfida, intanto... Come le ho posto la domanda? Benissimo. Grazie. Allora, intanto la questione è che i nostri ragazzi arrivano dopo le nostre politiche. Se noi siamo il terzo paese al mondo con il mismatching, anche perché siamo il terzo ultimo paese al mondo per investimento in istruzione e formazione, siamo molto indietro rispetto all'investimento sull'orientamento. Per fare un esempio, noi in Italia abbiamo circa 10.000 orientatori, molti dei quali sono abbastanza, come dire, non del tutto adeguati alle esigenze. In Germania sono circa 70.000, in Francia sono 50.000. Intanto c'è questa differenza nella strumentazione e nell'accesso all'informazione che hanno i nostri giovani e le famiglie. Perché la prima scelta è nelle famiglie, se le nostre famiglie sono disorientate rispetto al cambiamento, riescono a fare scelte sbagliate. Facciamo un esempio, riescono a mandare il ragazzo in una triennale, in una laurea triennale che di buono ti dà un titolo di studio da dottore, noi siamo credo l'unico paese al mondo che dopo tre anni di università dà un titolo di questo tipo, ignorando magari che esistono gli ITS, che sono delle biennali fatte con le nostre filiere di impresa e che tendenzialmente formano, preparano quelle competenze richieste dal Made in Italy, che sono spesso tecniche e manuali e che tendenzialmente hanno una possibilità di inserimento nel mercato del lavoro entro due anni che vale tra l'85 e il 90%. Quindi c'è la necessità di informare i giovani e le famiglie su quali sono i percorsi di lavoro e le competenze che sono richieste dal nostro mercato. Dopodiché è vero, chiaramente la tecnologia impatta, non è più come diceva il professore un mezzo ma è lo scenario di riferimento, ma impatti in modo diverso rispetto anche a ciò che facciamo. Noi siamo comunque il paese delle 4A, dell'arredamento, dell'abbigliamento, dell'agroalimentare, dell'automotive e molta delle nostre difficoltà di matching e del fabbisogno professionale formativo riguarda il fatto che noi abbiamo quasi scientificamente allontanato negli ultimi 30 anni i nostri giovani dalle caratteristiche dei percorsi di apprendimento e dai mestieri che sono invece quelli fondamentali del Made in Italy. Allora, riavvicinare i nostri giovani all'identità economica italiana attraverso un'attività di orientamento, di informazione, di educazione che parta già alle scuole costituisce già un elemento importante per poi fare le scelte. Io non arriverei a fare come in Germania che già a 16 anni un ragazzo deve sapere esattamente che cosa farà fra 20 anni. Però francamente rimandare questo momento in una data indefinita che è forse dopo il titolo di studio crea problemi proprio perché tu rischi di arrivare a 25 anni con una competenza più teorico che altro con un titolo di studio che però non è detto che abbia un mercato e soprattutto profondamente privo di quella capacità ad agire di quelle soft skills, di quell'apprendimento di ciò che non è competenza tecnica ma è relazione sociale, è sistema di compenetrazione dei cambiamenti del mondo che forse è accesso all'informazione direbbe qualcun altro che forse poi è l'elemento che ti fa selezionare e scegliere da un'azienda. Infine, ultima riflessione, oggi ai ragazzi è chiesto di lavorare bene e di avere passione per ciò che fanno e quindi bisogna accendere. Accendere la passione è possibile se tu fai qualcosa che ti senti dentro e allora ecco che è un lavoro sull'orientamento, sulle attitudini su fare in modo che i ragazzi facciano quell'esperienza che ti permette di fare ciò che ti piace fare perché se lo fai vuol dire che lo fai bene e allora questo vale molto spesso anche più del mismatching. Mi spiego, in Italia tutti quanti sanno che c'è bisogno di un cuoco di cuochi per esempio, ma in realtà ciò di cui c'è veramente bisogno è di qualcuno che sappia fare bene il proprio lavoro e allora ecco che anche delle competenze che da queste classifiche risultano non particolarmente richieste in realtà se una cosa la fai veramente bene non dico se sei il numero uno ma se lo fai con passione ecco che quella cosa la fai bene e quella cosa ha mercato allora noi dobbiamo anche cercare di fare in modo che la scuola e le famiglie sappiano anche un po' riaccendere la passione la voglia di fare la fiducia nella scuola e quindi anche la fiducia le scuole che riescono ad avere un rapporto con le imprese e portare i ragazzi io cerco ogni domenica di farlo vedere in tv nelle botteghe artigiane nelle nostre aziende che fanno duale, apprendistato formativo che avvicinano realmente i giovani anche all'apprendimento pratico ecco che fanno scattare quella consapevolezza senza la quale qualsiasi decisione si fa fatica a prendere se non sono consapevole di ciò che voglio poi alla fine rischio appunto di essere disorientato chiudo su questo fatto noi abbiamo circa 3 milioni di potenziali posti di lavoro nei prossimi 4 anni sono potenziali non dipendono soltanto dal fatto che si possano avere giovani con quel tipo di titolo di studio di competenza teorica servono anche giovani che abbiano quella voglia di fare quel tipo di voglia anche di rischiare quella fiducia di mettersi in gioco quella passione senza la quale il titolo di studio da solo in realtà non mi realizza nessun risultato allora parlavamo dell'importanza anche di una conoscenza pratica parlavamo dell'importanza di una scuola che forma già dalla scuola al mondo del lavoro a questo punto Antonello mi viene da dire questa alternanza scuola-lavoro su cui tanto si è investito che risultati ha dato ha dato dei risultati positivi ha dato dei risultati negativi perché poi le tematiche che comunque toccava Benini sono in realtà le stesse tematiche che noi continuiamo ad affrontare da anni senza un'inversione di tendenza un'inversione di rotta perché? beh sì allora tanto per cominciare l'alternanza scuola-lavoro sull'alternanza scuola-lavoro abbiamo investito pochissimo perché l'alternanza così come è stata ridefinita e sistematizzata dalla legge 107 del 2015 come sapete è durata tre anni dopodiché l'abbiamo più che dimezzata stiamo parlando di 100 milioni di euro all'anno e questo è stato l'investimento sull'alternanza allora ne abbiamo parlato tanto investito tanto a parole ne abbiamo parlato diciamo che questo ci riesce abbastanza bene spesso parliamo molto e facciamo poco e soprattutto non riusciamo a trarre insegnamento da quello che facciamo perché non esaminiamo bene le conseguenze di quello che si fa in altri termini una riforma come questa dell'alternanza una mini riforma oserei dire che ha messo a sistema appunto quel certo numero di ore avrebbe dovuto durare per un certo numero di anni per poi trarre le conseguenze chiaramente se noi per tre anni andiamo avanti ricordo che il primo anno erano coinvolte soltanto le classi terze il secondo le terze e le quarte il terzo le terze, le quarte e quinte e poi abbiamo dimezzato tutto quindi siamo arrivati appena appena al punto di regime e abbiamo spento i motori o comunque li abbiamo dimezzati ecco finché si fanno riforme così si buttano i soldi non si riesce neanche a capire qual è l'impatto però ricordo che l'alternanza è un qualche cosa che in Germania è molto più seria lì ci si investe e lì è stato uno strumento in grado di azzerare di fatto la disoccupazione giovanile noi al meridione abbiamo una disoccupazione giovanile che sfiora il 50% ora è chiaro che ogni paese ha le sue peculiarità noi abbiamo le imprese molto polverizzate le micro imprese sono tantissime la stragrande maggioranza in Germania non è così abbiamo ampie parti del paese specialmente al sud dove il tessuto aziendale è molto ridotto questo tra l'altro crea un problema nel problema sappiamo perfettamente che mentre al sud ci si dedica di più al lavoro pubblico si cerca di più il lavoro pubblico al nord è il contrario quindi abbiamo anche un tasso di abbandono scolastico altissimo abbiamo in Italia abbiamo un tasso di abbandono scolastico molto importante che viaggia sul 25% questo sommato negli anni è un numero enorme come diceva giustamente il collega prima abbiamo pochissima noi dedichiamo pochissima attenzione a certi aspetti collaterali per esempio l'orientamento che invece dovrebbero essere strutturali cioè noi pensiamo che tutto sommato sia un fatto naturale scegliere la propria strada non è così se noi pensiamo che le famiglie siano in grado di indirizzare i ragazzi stiamo prendendo un fiasco le famiglie non ne hanno idea tranne poche naturalmente è evidente che ho una famiglia di professionisti di imprenditori vabbè ma lì allora la strada è abbastanza segnata peraltro ricordo che tutte le statistiche tutti gli studi sull'argomento dimostrano che il destino il successo il miglioramento della qualità della vita e del censo dei nostri ragazzi dipende per il 50% dalla famiglia quindi in realtà comanda molto di più l'origine familiare che non la scuola e la meritocrazia giusto così per capire di cosa sto parlando questo che ho dato è un numero uno studio compiuto dalla Sapienza a Roma quindi il 50% della famiglia spiega questo in Italia in Danimarca è il 15% cioè in Danimarca l'85% dipende dal tuo merito scolastico in Finlandia è il 17% ecco quindi noi italiani siamo veramente al top di questa classifica nei paesi e quindi siamo al 50% insieme alla Gran Bretagna ecco per dire allora giusto per tornare a noi al discorso dell'alternanza l'alternanza andrebbe ripotenziata subito però è inutile nascondersi che l'alternanza nell'ambiente liceale è stata vissuta molto male perché la nostra scuola sconta un difetto di teoreticità l'accademia spesso in Italia è molto astratta è molto teorica questo a mio giudizio dipende dal fatto che la nostra cultura dominante è neodialistica di fatto è quella della riforma gentile noi da quella riforma non ci siamo mai affrancati noi non siamo un paese con radici empiristiche diciamo come l'Inghilterra e quindi tendiamo a non vedere l'importanza di quello che avviene del fatto che si devono adattare i modelli mentali e i modelli teorici a come è fatta la realtà non si deve pensare di avere una visione idealistica a priori nella quale la realtà deve accomodarsi per forza questo è un difetto culturale e quindi da questo punto di vista direi semplicemente che serve uno sforzo appunto da parte delle istituzioni il ministero dell'istituzione sicuramente però le accademie le università potrebbero fare tantissimo per sottolinearci e riconduci all'importanza del lavoro pratico come si diceva prima non ha senso che gli studenti studino a memoria tante nozioni poi non le sappiano collegare non sappiano farci qualcosa ma il saper fare qualcosa non è soltanto qualcosa di meccanico è anche fare qualcosa di teorico io devo studiare per saper fare qualcosa e questo nella nostra scuola non è vissuto benissimo noi tendiamo più a fare la testa ben piena che la testa ben fatta per dirla con moren e quindi credo che da questo bisogna ripartire sicuramente una scuola che però deve formare anche per diventare i ragazzi manager come si fa? come si fa? intanto come si fa? bisogna partire dalla scuola chiaro assolutamente bisogna partire da nuovi programmi formativi che possano orientare i ragazzi verso i nuovi mestieri verso i nuovi paradigmi e il mondo del lavoro che cambia c'è una ricerca McKinsey che stima in circa 224 miliardi l'incremento del PIL nel prossimo decennio pare a un incremento del 13% ma è una condizione che si facciano investimenti e che si costruiscono progetti innovativi cosa che in Italia faccio un esempio noi abbiamo i fondi interprofessionali che gestiscono centinaia di milioni di euro sapete quanto viene investito dai progetti aziendali in incremento della cultura digitale 3% è incredibile la gran parte di questi fondi vengono impiegati nella formazione obbligatoria che le aziende dovrebbero fare la sicurezza la tutela 3% sono dati di una ricerca che ho consultato qualche tempo fa questo è veramente un dato che ci deve far riflettere e che ci porta anche ad allargare le riflessioni su tre vingoli dimensionali molto stretti diceva prima qualcuno il modello prevalente in Italia è della piccola media impresa piccoli imprenditori che hanno una dimensione culturale probabilmente bassa che non sono invogliati che non hanno quella cultura all'investimento al rischio probabilmente perché mancano buoni progetti perché mancano le persone capaci di adiare questi buoni progetti in più c'è questa dimensione stretta delle aziende che sono piccole e che avrebbero bisogno di dimensioni completamente differenti e c'è poi la dimensione di scarsa divisione della politica che non agevola questi processi e come dicono la rondina non fa primavera noi ci abbiamo pensato tanti anni fa sulla importanza della formazione quale strumento quale veicolo per mantenere la propria occupabilità adeguata a un mondo che cambia in continuità andiamo a costituito una business school contrattuale CFMT già 25 anni fa 4.000 dirigenti all'anno circa sono i dati ultimi che mi ha fornito il presidente del CFMT bastano attraverso i nostri momenti formativi per 12.000 partecipazioni che vuol dire che ogni dirigente svolge almeno tre momenti formativi all'anno per 8.000 imprese da 25 anni lo facciamo è un processo continuo costante anche perché all'interno della categoria manageriale della comunità manageriale il turno era molto alto quindi c'è bisogno di un continuo di formazione di imparare ad imparare allora in più c'è questo gap che nasce dalla velocità dell'innovazione tecnologica che diventa sempre più ampio le tre precedenti rivoluzioni industriali sono nate grazie a una rivoluzione tecnologica grazie all'innovazione tecnologica ma la velocità dell'innovazione tecnologica rispetto alla adattività delle persone per rendere questa innovazione un fatto positivo perché potesse in qualche modo cambiare come è stato la vita delle persone era relativamente breve nel medio breve periodo si recuperava il gap oggi è impossibile oggi è talmente alta la velocità dell'innovazione tecnologica soprattutto per effetto alla digitalizzazione dell'intelligenza artificiale che questo gap aumenta sempre più quindi dobbiamo porcelo il tema e il tema è quello di recuperare non sul piano della formazione attraverso la scuola e l'università ma si pone un grandissimo tema anche su chi in questo momento viene espulso dall'innovazione nel mondo del lavoro e queste persone seppure diciamo l'innovazione tecnologica non ha prodotto risultati negativi però i nuovi impieghi non sono recuperati da chi viene espulso quindi si pone un grandissimo problema di riqualificazione di chi non può essere ricollocato quindi da una parte formazione per colmare questi gap e lavorare sulle competenze chiave più futuro dall'altra il grandissimo problema di riformare e riqualificare tante persone che restano senza lavoro Presidente Celli i giovani come si pongono nei confronti all'innovazione tecnologica della tecnologia sono i più abilitati a farlo nel senso che ormai sono quasi tutti inattivi digitali quindi il problema non è usarla saperla usare maneggiarla il problema è che uso farne che uso farne nel momento che la tecnologia ormai che è ormai il digitale abolendo confini e tempi in realtà rende tutto connesso e rende tutto disponibile il rischio è che i ragazzi si rendano conto che è molto più facile cercare che imparare se io cerco trovo e nel trovare come dire esaurisco la mia competenza in realtà sappiamo che la conoscenza vera bisogna conquistarsela non c'è conoscenza senza fatica e paradossalmente le tecnologie rendono meno faticoso avere a disposizione quanto meno le informazioni e a connetterle insieme e questo è un dato dopodiché ci hanno invece anche un vantaggio uno svantaggio ulteriore che è molto più pesante le tecnologie senza confini in qualche modo sollecitano le persone a un eccesso di attenzione alla prestazione oggi le nostre imprese sono concentrate sulla prestazione dei dipendenti cioè aumenta la pressione sulla prestazione tu devi raggiungere i risultati devi superare i risultati devi avere continuità sui risultati e così via la prestazione è un fenomeno che crea distinzione fondamentale siccome tu hai l'impressione di poter fare di avere un'autonomia di fare perché noi le tecnologie per chi le capisce bene danno questa euforia sono in grado di poter fare molte più cose e quindi voglio fare molte più cose il voler fare molte più cose significa in qualche modo cadere in un loop in cui la managgiavorezza riguarda l'eccesso siccome noi oggi viviamo in una situazione di eccesso di tutto di informazione di consumo di produzione di relazioni potenziali la prestazione spinta al limite crea un fortissimo stress e creando stress genera stanchezza e questa è la prima forma di malattia che è legata all'eccesso di prestazione sulla quale molte volte le aziende spingono con l'utilizzo di tecnologie che in qualche modo non lo rendono possibile ma guardato anche l'altro versante di quelli che non sono in grado di raggiungere prestazioni perché non hanno le condizioni per poterlo fare perché non sono stati messi nelle condizioni di poterlo fare e quindi sgruppano per il loro converso frustrazioni nel non riuscire a fare quel poter fare che in realtà sembra disponibile a tutti la nostra civiltà sta diventando una civiltà che attaccata alla prestazione genera stanchezza e mentre una volta contro le difficoltà noi riusciamo ad avere gli strumenti per combattere con le difficoltà si combatte quando subentra la stanchezza l'unica cosa è che ci si rassegna la rassegnazione e quindi c'è un altro potenziale pericolo in questo mondo di evoluzioni costanti che in qualche modo si trova di fronte ai ragazzi che noi mettiamo senza avere anticorpi perché la scuola e l'università non creano anticorpi e sarebbe già un fatto arretrato perché quando si creano anticorpi vuol dire che c'è un sistema immunitario e il sistema immunitario c'è quando c'è un dentro da proteggere rispetto a un fuori oggi non c'è neanche più il dentro e il fuori c'è tutto ampiamente usufruibile quindi è anche difficile poter raccontare su sistemi immunitari e quindi su anticorpi che aiutino quelli che noi forniamo ci sono sempre due vincoli ancora il primo vincolo è che l'università che dovrebbe essere quella che in qualche modo è avanzata su questi temi in realtà dei ragazzi non si occupa io ho scritto nel 2010 un capitolo di un libro che mi ha tirato molto togliete l'università ai professori perché l'università ha bisogno di maestri non di professori maestri gente che si fa carico dello studente gente che si preoccupa della sua formazione gente che si preoccupa di lasciare in dote competenze saperi intelligenze sensibilità e emozioni con cui il ragazzo si struttura per affrontare quello che va oggi gli accademici io ho fatto nove anni direttore generale dell'università Luis e quindi so le lotte mie con gli accademici perché io mi occupavo totalmente di studenti visto che degli studenti non si occupavano io mi sono preso questa preoccupazione e quindi facevo io l'orientamento quando arrivavano perché erano del tutto disorientati e poi nei cinque anni me li seguivo fino a portarli al lavoro quando si lavoravano gli accademici di queste cose tranne pochi pochissimi casi non si occupavano affatto allora noi abbiamo bisogno di creare un sistema in cui i ragazzi arrivino strumentati ma non dal punto di vista delle conoscenze al limite le conoscenze se le possono fare anche da soli ma devono strumentati dal punto di vista di come maneggiare il mondo all'interno del quale loro vanno a lavorare bisogna capire come discernere perché il discernimento non è semplicemente intelligenza o conoscenza è capacità di capire quando le cose possono andare in un mondo o in un altro capacità di sapere con chi connettersi e con chi non connettersi e soprattutto capacità di avere un pensiero che è largamente oggi desueto e svalutato perché noi ormai insegniamo a pensare tecnicamente non ci sono dubbi il nostro pensiero è un pensiero tecnico per fare delle cose noi siamo abilissimi ormai molto più di un tempo a pensare per fare delle cose per ottenere delle cose ma non sappiamo a cosa serve le cose che facciamo quando prima si parlava del significato e del senso è questo allora lì interviene un altro pensiero che era il pensiero antico era il pensiero greco che ci siamo portati dietro per tanti anni e poi abbiamo dimenticato ed era il pensiero critico che faceva prima di spingersi a fare delle cose cercava di capire a cosa servivano le cose che andavamo a fare e quello è il discernimento se noi non torniamo nel mondo della scuola nel mondo dell'università nel mondo come dire della formazione che è formazione e anche educazione tenete presente che il problema nostro dei nostri ragazzi che andranno a lavorare in un mondo frammentato per cui passeranno da un lavoro all'altro anche lavori molto nobili va bene c'è una specie di ragione straniera dei talenti ormai nel senso che vanno in un posto a proposito di questo vogliamo sentire il parere di Romano Benini allora i docenti sono un po' come li descrive Celli e poi hai visto questi ragazzi stanchi affranti scettici i docenti sono come li descrive il professor Celli io ho un problema in uno dei miei corsi della sapienza perché ho troppi ragazzi vengono da tutto il mondo e ne ho troppi ho chiesto alla mia coordinatrice del corso di laurea perché tutti vogliono fare il mio corso lei mi risponde perché tu sei l'unico che li porta in azienda a vedere concretamente come è fatto il lavoro allora mi chiedo ma i miei 15 colleghi cosa fanno fanno altro allora riallacciandomi al professor Celli allora c'è una frase che vi vorrei un po' trasferire che a proposito di conoscenza descrive la conoscenza in questo modo l'uomo fa e agisce l'uomo fa attraverso la competenza tecnica e agisce attraverso le relazioni sociali la capacità ad agire entrambe queste cose sono al servizio della capacità di riflettere cioè la conoscenza che è il motivo per cui siamo venuti al mondo questa frase è di Dante Arighieri che recupera il pensiero di Aristotele e che in realtà ci chiarisce esattamente un po' ciò di cui noi stiamo parlando oggi noi dobbiamo riprendere possesso del rapporto tra la competenza tecnica il come e la capacità relazionale quello che in modo un po' sbrigativo qualcuno chiama soft skills cioè la consapevolezza il perché noi facciamo quello che vogliamo fare qual è il problema? che abbiamo una scuola che a volte con fatica riesce a darci un po' di competenza tecnica magari più teorico che pratica le aziende oggi soprattutto con il quarto capitalismo e altro non chiedono solo questo chiedono consapevolezza chiedono voglia di fare chiedono appunto quella che la Anna Arendt chiamava capacità ad agire il grande problema a mio parere è che noi sistemi territoriali formativi in grado di tenere insieme quello che Dante chiamava saper fare e saper agire facciamo fatica a trovarli non c'è un ripensamento dei paradigmi che tengono insieme la formazione e la conoscenza in modo tale da tenere insieme ciò che nel rinascimento abbiamo tenuto insieme ciò che quando siamo in grado di tenerlo insieme nei nostri sistemi territoriali di imprese e altro facciamo le cose più belle e ben fatte al mondo ma come sistema paese questa sfida non riusciamo a vincerla la vince qualche cluster la vince qualche territorio la vince qualche area tutto un po' lasciata l'autonomia esatto la vince in qualche modo qualche autonomia territoriale magari investendo anche attraverso l'ITS o certi istituti universitari politecnici e altro creando anche delle start up ma sono non dico matti di leopardo sono delle spinte che ancora non fanno sistema noi stiamo rischiando di perdere una grande occasione perché il quarto capitalismo non è il terzo il quarto capitalismo il capitalismo della connessione permette anche alle piccole e medie imprese se esistono e convergono su delle reti territoriali di vincere la sfida ma in realtà il quarto capitalismo in assenza di un'azione di sistema nazionale di una politica integrata o altro rischia oggi di dividere il paese non di unirlo perché avremo Reggio Emilia Carpi alcuni territori diciamo della Toscana qualcun altro che ce la fa è un gran parte del paese che non riesce a creare le reti e a stare appunto e a portare i giovani in queste reti e l'elemento di fondo di questo sistema rete non c'è niente da fare è la scuola e quindi intanto cominciamo a metterci dei soldi perché se continuiamo ad avere problemi che i ragazzi degli istituti tecnici non hanno i laboratori forse ci mancano i fondamentali e poi anche qui cerchiamo di rompere il paradigma gentiliano per cui se abbiamo un figlio intelligente lo mandiamo al liceo se non è molto bravo lo mandiamo all'istituto tecnico perché suicida per la nostra economia continuare a pensarlo in questo modo perché alla fine sarà un bravo professore che sa tutto di niente e il paese questo non se lo può più permettere perché la scuola Giannelli non riesce a fare squadra perché non si riesce a valorizzare poi un'istituzione fondamentale per i giovani nel nostro futuro perché alla fine la colpa non è solo dei docenti no 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 ma assolutamente a parte che la colpevolizzazione direi che non va mai bene assolutamente sì il punto è che la scuola è figlia di una società è figlia di un paese quindi pensare che la scuola sia un corpo a sé stante che autonomamente può prendere decisioni e mutare le sorti del paese è chiaramente del tutto illusorio ripeto è un fatto culturale nel nostro paese io ritengo che ci siano queste difficoltà di cui si parlava prima tra cui per esempio noi non riusciamo ad accettare così facilmente l'idea di un apprendimento permanente quello che penso che in un uditorio come questo sia abbastanza scontato e cioè che non si finisce mai di imparare si continua a imparare penso che tutti qua continuiamo a farlo ecco nel nostro paese non è così diffuso l'idea che prima si studia e poi ci si dedica al lavoro e va bene così è abbastanza diffusa quindi ripeto è un'operazione culturale appunto la tendenza è quella io trovo un lavoro ho trovato un lavoro sono a posto appunto che è un'idea che poteva andare bene qualche decennio fa però l'accelerazione di cui parlava Guido quindi questa veloce obsolescenza delle competenze dei saperi fa sì che è tutto molto meno stabile d'altronde insomma la definizione di società liquida di competenze liquide sta proprio a indicare questa idea di destabilizzazione allora si può perfettamente convivere con questa destabilizzazione però bisogna avere una mentalità incentrata più sull'orientamento al problema da risolvere quello che diciamo problem solving che poi in qualche modo identifichiamo con le competenze che non con i saperi statici allora questo significa spostare il focus dell'insegnamento dalle nozioni singole alle connessioni tra le nozioni tra le branche del sapere e quindi alla capacità di risolvere problemi però la nostra scuola ripeto è invece più orientata su quell'altro aspetto io penso che sia un fatto culturale che dobbiamo risolvere che dobbiamo risolvere però è difficile risolverlo dal basso ci sono naturalmente innovazioni progetti sperimentali scuole che lo fanno benissimo però la difficoltà di noi italiani è di mettere al sistema le idee bellissime le intuizioni bellissime di qualcuno che però non possono rimanere diciamo uniche e irripetibili bisogna fare in modo che siano proprio ripetibili e quindi i modelli di successo vanno esportati adesso noi ci siamo impegnati in un'idea che è racchiusa nello slogan via le materie che significa appunto superare le rigide distinzioni tra le materie perché il sapere è fatto di quei nessi tra le conoscenze tra le branche del sapere non è fatto semplicemente dei nuclei fondanti di singole discipline perché le discipline le materie che si insegnano a scuola sono una sorta di distillato della conoscenza che l'umanità ha accumulato nei secoli e quindi sono come dire un punto di arrivo ma non possono essere un punto di partenza d'altronde il metodo con il quale noi accresciamo la nostra consapevolezza e la nostra conoscenza qual è? è sostanzialmente quello sperimentale noi proviamo a fare qualcosa sbagliamo impariamo che così non si fa e andiamo avanti allora bisogna in qualche modo riuscire a ricreare questa situazione sperimentale nelle nostre scuole in modo che il ragazzo viva questo processo e non sia un contenitore nel quale si versano queste conoscenze che gli vengono proposte in modo acritico e quello che si diceva prima sviluppare il senso critico a questo deve servire la scuola a dare senso a quella cultura a quelle nozioni che altrimenti in un mondo come quello di oggi più che in passato rischiano di restare frammentarie la conoscenza è su internet su internet abbiamo le nozioni però essere diciamo sapere qualcosa non significa essere udito di tante nozioni sconnesse perché sei soltanto una persona che appunto ha tante nozioni invece significa riuscire a utilizzarle per fare qualcosa per ottenere un risultato per applicarle a una situazione magari sbagliando però da questo esperimento imparerai qualcosa ecco il senso della scuola io ritengo dovrebbe essere proprio questo e ci si può riuscire stiamo cercando di farlo attivando delle sperimentazioni di singole classi in tante scuole sperando che per contaminazione diciamo con una sorta di viralità questo si diffonda e possa un giorno investire tutto il sistema però Carella mi chiedo la scuola è pronta a cambiare mentalità i giovani sono pronti a cambiare mentalità sono pronti a imparare ad imparare io credo di sì c'è come dire guida la volontà di chi poi governa questi processi io credo che per dare un senso alle cose che facciamo per aumentare il senso critico tutto nasce dal modello relazionale che si vive a partire dall'asilo a partire da scuole elementari a partire da scuole medie all'università e in azienda io faccio un esempio ero molto d'accordo con il giovane collega che è un po' stupito per il suo modo di esprimere io sono totalmente d'accordo con lui nella mia vita professionale io non ho mai considerato le persone che lavoravano con me dei dipendenti io ho lavorato solo e sempre sia nella mia vita professionale ma anche nella mia vita associativa sull'unicità delle persone ogni persona è unica ogni persona è un mondo tutti devono essere attori protagonisti ma bisogna dare a tutti la stessa opportunità in partenza bisogna abituare le persone a esercitare le proprie responsabilità a esprimersi tutti hanno un valore tutti possono dare valore aggiunto e questo è un modo per come dire per affrontare anche i cambiamenti io ho da sempre lavoro con un modello orizzontale dove tutti sono uguali tutti hanno le stesse opportunità ma con la consapevolezza a partire da me che le diversità sono un valore che la multiculturalità la multiprofessionalità sia un valore è un modo differente per affrontare la complessità e per fare in modo che l'insieme sia assolutamente come dire più importante del valore del singolo il singolo non vale più oggi c'è bisogno di costruire pensiero collettivo intelligenza collettiva conoscenza collettiva per superare quella tavico individualismo che connota noi italiani abbiamo bisogno di coscienza di pensiero collettivo e questo si costruisce definendo e lavorando sui modelli relazionali a partire dall'asilo Presidente Celli come si fa a costruire un pensiero collettivo bisogna avere chiaro come modificare i sistemi di potere non ci sono modi perché finché il potere è organizzato nella forma tradizionale comando controllo execution è chiaro che un sistema di relazioni collettive non nascerà mai perché tutto dipenderà da quello che nasce dall'altro l'informazione scende giù ramo ramo va bene e quando arriva sotto in genere è completamente depotenziata nel senso che manca di qualsiasi appeal che possa convincere quelli che stanno sotto che sono al primo livello e sono quelli che sfangano quotidianamente che le cose vanno in un certo modo se non si pone il problema del potere all'interno delle organizzazioni e delle imprese difficilmente si riuscirà a dare soprattutto ai ragazzi che in questo modello non lo vivono già più perché la tecnologia li ha orizzontalizzati tutti perché le informazioni loro ce le hanno sui social prima che ce le abbiano in azienda va bene e quindi in realtà la tecnologia sta sabotando tutto il modello organizzativo tradizionale classico lo sta sabotando ecco nel momento in cui chi è al potere si renderà conto di queste cose o si adeguerà oppure 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 ci avremo la deformazione del potere come diceva Elia Scanetti chi ha il potere in realtà non lo vuole perdere e noi abbiamo un paese in cui questa rappresentazione quasi sacra è perfetta chi è al potere vuole permanere la permanenza è la legittimazione di chi sta al potere e per permanere bisogna che non faccia crescere nessuno che gli possa prendere il posto allora la differenza tra un manager un capo che è un leader sta proprio in questa difficoltà se uno è un leader si preoccupa della discendenza sa generare sa togliersi di mezzo quando è il momento perché c'è qualcuno pronto a prendere il suo posto se uno è semplicemente un uomo di potere è un capo alla logica del comando e la logica del comando richiede obbedienza modelli che per i ragazzi non hanno più alcun significato non hanno più alcun significato ecco perché bisogna rovesciare il paradigma ma guardate che il problema poi quando uno tenta di cambiare questo modello organizzativo non è tanto il campo più in alto sono i capi intermedi sono i capi intermedi perché se saltano loro loro non sanno più chi sono non sanno più chi sono se voi andate a leggere Carl Schmitt sul potere che è ancora uno dei più lucidi su queste cose al di là di tutto quello che si può dire per altre sue ideologie un pochino un pochino diciamo collocate tra il ventennio e il trentennio ma sul potere il capo è sempre schiavo del suo corridoio chissà nell'anticamera del capo è quello che condiziona il capo e il capetto è quello che condiziona il capo lui la chiama la corte brumosa perché non si capisce mai che cosa avvenga all'interno se voi volete vedere un'impresa innovativa rispetto a un'impresa ancora tradizionale non troverete la corte brumosa non troverete nel mezzo quelli che in qualche modo difendendo il capo in realtà difendono le loro posizioni le loro prestazioni la loro performance e i loro meriti che non ci sono quella è la distinzione fondamentale i nostri ragazzi che entrano all'interno delle aziende molto spesso l'inciampo non è con quelli che stanno sopra che molto spesso non li vedono neanche l'inciampo è con quelli che stanno in mezzo e d'altra parte è abbastanza chiaro a tutti per chi ha fatto impresa che non c'è cambiamento nell'impresa se non si fanno fuori i capi intermedi perché lì si blocca tutto ecco non a livello diciamo non siamo così violenti però come si fanno appunto a scardinare questi sistemi che ormai ci sono da anni da decenni voglio anche io cogliere questa riflessione aggiungendoci diciamo anche alcune mie considerazioni il modello gerarchico del capo della divisione specialistica del lavoro delle competenze non interdisciplinare della mancanza di connessione è quello che ha retto il precedente capitalismo che non possiamo più cercare di tenere in vita tutti i costi perché ci sono fasi e altre era quel capitalismo che sostanzialmente produceva beni quantitativi in grande beni di massa fungibili non di grande valore che ha avuto questo tipo di modello organizzativo di riferimento noi oggi avremmo di fronte un'altra opportunità c'è un'economia che tende quantomeno nei paesi avanzati a passare dalla quantità alla qualità e che per cogliere questa opportunità deve appunto rompere alcuni paradigmi il primo paradigma lo diceva Guido è tornare a tenere insieme i saperi le competenze interdisciplinari che sono quelle che mi permettono anche di cogliere il senso di ciò che faccio e anche di avendo queste competenze di natura appunto trasversale interdisciplinare o altro quel senso critico quella consapevolezza di sapermi gestire i cambiamenti tecnologici e le accelerazioni da questo punto di vista che la competenza tecnica pone perché quella cambia in continuazione è sapere umanistico che resta sempre quello quello tecnico invece che cambia in continuazione questo è il primo paradigma che ci dobbiamo portare dentro e poi c'è il secondo la capacità di rompere lo schema gerarchico che non conviene più non conviene all'economia non solo non conviene all'uomo introducendo meccanismi di lavoro in team di lavoro in collaborazione appunto più orizzontali ora per far tutto questo c'è uno sforzo culturale che va fatto però io penso che se la scuola incomincia a insegnare questi riferimenti introducendo senso critico consapevolezza capacità di andare a scuola per imparare come direbbe qualcuno a ragionare perché tutto il resto lo scarichi dal web non è che c'hai bisogno di qualcuno che te lo spiega ciò che è scaricabile dal web non ha bisogno dell'insegnante l'insegnante ti deve far leggere tra le righe ti deve spiegare il perché tenere insieme tutto questo ha bisogno di un management che sappia essere protagonista di questa sfida perché oggi il manager non è più quello che organizza le gerarchie e i controlli il manager è quello che organizza le collaborazioni e le connessioni il manager non è più quello che sposta come le mande al pascolo le aziende da un territorio all'altro per poter in qualche modo devastarlo e tirare fuori qualche vantaggio economico ma quello che fa crescere un'impresa come una pianta radicata nel territorio è in grado di espandersi senza gerarchie perché la pianta cresce appunto con uno schema per cui ogni cellula vale ed è importante allo stesso modo oggi l'Italia ha bisogno di questo management e perdonatemi ha bisogno quindi di restituire all'economia quella dimensione umanistica che ha a che vedere col primo capitalismo il primo capitalismo ci spiegò Sombart nasce in Italia cercando di porsi in combi obiettivi quello del benessere dell'individuo il benessere dell'uomo non tanto il fare profitto finanziario quello è venuto dopo l'hanno fatto i protestanti altre culture non sono la nostra e allora ecco che qual è il mio problema là dove abbiamo territori che hanno reti civiche un po' più robuste probabilmente sono in grado di realizzarlo e quei territori invece che hanno forse una maggiore debolezza non hanno certo una politica che promuove questo tipo di scelta e allora forse ripartire dal fatto di restituire importanza agli insegnanti e alla scuola potrebbe innescare questo meccanismo e dall'altro ci sono sempre come dire direbbe qualcuno le avanguardie cioè quelle imprese più forti quelle 4 5.000 imprese italiane che stanno sul mercato e che ci rendono il quinto paese al mondo come sul plus commerciale e che queste cose le hanno un po' alla volta portate dentro facendo fatica morti e feriti bene facciano tendenza insegnano in qualche modo anche attraverso la vostra funzione a trasferire questa cultura manageriale alle altre imprese partendo da un presupposto perché il presupposto è che conviene non è una cosa che si fa perché c'è uno spirito etico ma perché c'è un'etica che conviene perché ci permette anche di stare sui mercati offrendo il meglio di noi però è anche vero che la scuola offre dei paradossi costanti non so 2-3 settimane fa 4 settimane fa eravamo a didatta a Firenze parlavamo di innovazione a fronte di scuole che cadono a pezzi di scuole dove i docenti cambiano ogni 5 secondi ed è la tendenza dei nostri giovani ed è secondo me a mio avviso sbagliata di scegliere la scuola privata piuttosto che la pubblica a scapito appunto della maggioranza delle nostre scuole come si fa ad arginare tutto questo? Sicuramente serve uno sforzo intenzionale ripeto io credo che avere una politica in questo caso una politica scolastica si parlava di politica economica forse bisognerebbe avere una politica ecco senza aggettivi altro panel ecco no perché questo è un problema serio per quanto riguarda le scuole cosa si può fare? io penso che si possa fare allora un'idea la proponevo prima quella di iniettare dei germi di innovazione però in modo che possano crescere prosperare e diffondersi contaminando in positivo gli altri per esempio con sperimentazioni intelligenti prendendo una classe in ogni scuola allora si vede che questo modello può funzionare perché quando una prassi è positiva gli altri tendono a imitarla se si cerca di imporla invece non funziona un'altra possibilità è qual è? quella di fare molta formazione sui docenti ecco si parlava prima del potere è una suggestione molto bella mi è piaciuta molto perché perché noi avviviamo un'enorme difficoltà nella nostra scuola perché si è passati dalla possibilità di gestire le altre persone in questo caso gli studenti in base al principio di autorità a invece a poterle gestire soltanto se si ha autorevolezza ora il passaggio dall'autorità all'autorevolezza è molto complicato perché l'autorità è un qualche cosa appunto basato su come dire una visione del passato molto gerarchica invece il principio di autorevolezza è quello secondo cui io ti riconosco un qualcosa ma significa che ogni docente dovrebbe riuscire a fare questo ogni dirigente dovrebbe riuscire a fare questo quindi tu non puoi dire agli altri quello che devono fare non puoi porti come una guida semplicemente perché hai un ruolo ma perché ne sei capace e questo è tutto un altro paio di maniche dovresti essere anche consapevole del ruolo che hai soprattutto sì devi essere consapevole del ruolo che hai però devi riuscire a essere autorevole quindi devi riuscire a saper guidare gli altri sapendoti mettere in gioco quindi la critica che ti si fa non è un qualche cosa che non è un attentato alla tua maestà ma è un qualche cosa che devi poter gestire e alla quale devi poter rispondere su questo abbiamo delle difficoltà perché non riusciamo a emanciparci da un modello autoritario che purtroppo diciamo che era più facile da gestire indubbiamente allora per fare questo come si fa bisogna aumentare moltissimo la professionalità ed è da questo punto di vista non si può disconoscere che nel mondo dell'istruzione l'investimento in formazione è stato direi nullo adesso con la legge 107 io non voglio spostare la legge 107 dico però oggettivamente sono stati messi dei soldi ecco però non basta mettere i soldi poi bisogna anche utilizzarli in modo intelligente ricordiamo che il mondo della scuola è un mondo un po' particolare perché ha un milione di dipendenti i docenti in Italia sono 800 mila allora questa massa di persone ha una inerzia notevole quindi per cambiare i comportamenti di queste persone si può fare perché non è che sono persone retrive però bisogna impegnarci impegnarsi con delle risorse avere un modello culturale di riferimento insomma cercare di aprire verso l'innovazione verso il futuro e i risultati vengono però ripeto è molto impegnativo e serve una coerenza e una continuità di azione che è inutile nascondersi che in Italia non abbiamo e insomma le riforme scolastiche sono spesso un qualcosa che serve più alla ricerca del consenso elettorale lasciatemi dire elettoralistico da parte delle varie forze politiche non si capisce perché il governo che arriva distrugge la riforma in paesi come la Finlandia ma possiamo prendere anche altri paesi nessuno penserebbe mai di cambiare totalmente alcuni aspetti dell'organizzazione scolastica da noi si fa puntualmente poi permettetemi di dire insomma siamo in un consenso che me lo permette si dà scarsa fiducia alla divigenza credo che questo sia in realtà un male un po' di tutto il paese però nel caso della divigenza pubblica e della divigenza scolastica si ha scarsa fiducia abbiamo sentito tutti parlare della cosiddetta chiamata diretta insomma adesso non voglio entrare in tecnicismi però l'idea che in Italia un preside possa assumere i docenti insomma fa svenire molte persone in Finlandia la danno tutti per normale ora è possibile che i finlandesi siano geneticamente modificati in meglio o che noi si sia tutti geneticamente modificati in peggio io penso di no anche perché anche perché un dirigente scolastico un preside ha un'esposizione sociale enorme ora chi è quel cretino di preside che assume tutti incapaci amici suoi e li manda in classe con il risultato che dopo cinque giorni tutte le famiglie e tutti gli studenti se ne sono accorti lo buttano giù dalla finestra quindi come si fa a pensare a una cosa del genere è molto più facile avere fenomeni corruttivi in materia di appalti perché come si diceva proprio qui a Milano Davigo insomma ha scritto tanti libri e la corruzione è un fenomeno in cui tutti cercano di tenere nascosto mentre invece a scuola non riesce a tenere nascosto nulla è tutto in piazza e quindi questo è una grande risorsa della scuola quindi insomma in conclusione secondo me un'idea di innovazione virale e un'idea di concentramento di risorse intenzionali può avere risultati ottimi però ripeto serve una classe politica che voglia farlo e sicuramente le riforme scolastiche non fanno il gioco di chi vuole essere eletto tra un anno tra sei mesi tra un anno e mezzo servono vent'anni per riformare un sistema scolastico in Finlandia ci hanno messo vent'anni e con i tempi che abbiamo noi la vedo dura eh sì che cosa i giovani possono dare alle aziende che cosa i giovani che lei incontra pensano secondo il lavoro noi siamo manager siamo abituati a trasformare le idee in progetti in proposte su questi temi stiamo lavorando su due dimensioni verso i giovani e verso i nostri rappresentanti verso i giovani perché ne sentiamo la responsabilità sociale di fare qualcosa per il paese qual è il nostro progetto il nostro sogno è quello di lavorare su questo portale che è quasi pronto che si chiama Un Ponte sul Futuro un portale che vuole essere uno strumento a disposizione di tutti i nostri ragazzi Under 18 e Over 18 per accompagnarli durante la scuola con una modalità differente di fare alternanza scuola-lavoro perché in Italia non dimentichiamoci le scuole sono sparse in tutto il paese è un paese molto lungo paesini con scuole a 1200 metri dove non ci sono imprese come fanno questi ragazzi? Allora stiamo costruendo questo portale che può dare uno strumento per consentire a chi che sia a qualunque scuola di aderire a questo progetto e fare in modo che si possa fare qualcosa di differente ma comunque l'obiettivo è quello di fare alternanza scuola-lavoro con l'aiuto di noi che volontariamente ci mettiamo a disposizione anche con l'aiuto dell'università e di altre istituzioni per costruire questi strumenti da mettere a disposizione Under 18 over 18 cosa possiamo fare per loro orientarli nella scelta degli studi una volta che studiano orientarli nella scelta del lavoro una volta che lavorano orientarli a fare al meglio il proprio lavoro con attività di coaching o di tutoraggio fare loro capire come diceva Benini che si fanno una scuola tecnica non è disdicevole perché non fanno il liceo mettere a disposizione strumenti che sono l'agenzia per il lavoro cioè tutta una serie di elementi per consentire ai ragazzi di avere un percorso di avere degli strumenti di avere la possibilità di costruire passo dopo passo il loro futuro per quelli che rappresentiamo dicevo prima abbiamo già realizzato attraverso il CFMT la possibilità di dare a tutti il diritto soggettivo diritto dovere soggettivo alla formazione continua il nostro CFMT il passo successivo che vogliamo fare è quello di mettere a sistema non soltanto la formazione perché non basta solo la formazione ma mettere a sistema tutte le politiche attive che comunque in questo paese vengono progettate tutte le normative tutto quanto può essere utile per dare a tutti la possibilità soggettiva quindi il diritto dovere della propria occupabilità questo vale almeno io lo farei per tutti i lavoratori del paese ma cominciamo a farlo per tutti i lavori per tutta la comunità manageriale però anche qui ci scontriamo contro una politica del particolare della difesa del potere particolare perché significerebbe mettere assieme tutte le rappresentanze datoriali e tutte le rappresentanze sindacali impossibile nel nostro paese cominciamo da noi stiamo tentando di farlo attraverso il nuovo nostro contratto io vorrei costruire un ente per il sostegno e l'occupabilità permanente di tutti quelli che rappresentiamo e non soltanto i nostri ma anche dei futuri dirigenti i neolaureati gli executive professional in modo da mettere a sistema tutte queste opportunità e fare in modo che questo ente possa dare alla formazione indicazioni utili sui trend futuri possa dare indicazioni alle imprese su quelli che sono i trend che nel mondo stanno modificando le attività produttive e dare la possibilità di costruire davvero un mismatching tra domande e operazioni di lavoro manageriale adeguato rispetto a come cambia l'attività produttiva come cambiano le imprese in modo tale da rendere il più piccolo possibile la percentuale dei disoccupati in Italia esiste un esempio virtuoso importante in Francia si chiama APEC e devo dire che in Francia tutta la classe la comunità manageriale compreso i quadri che è iscritto obbligatoriamente che riceve questo servizio obbligatoriamente quindi ha la possibilità di usufruire di questi servizi in Francia il tasso di disoccupazione della comunità manageriale è del 4% è un sogno e io ritengo che sia un'opportunità poi i sogni sono importanti perché ci danno la possibilità di realizzare qualcosa mai smetter di sognare sentita Presidente Cieli allora Antonello Giannelli parlava di Finlandia con il Presidente Carrella parlavamo di Francia qual è un modello per lo sviluppo della scuola che lei pensa possa essere a cui l'Italia possa fare riferimento un modello virtuoso noi l'abbiamo noi l'abbiamo avuto prima degli altri probabilmente ed era l'Olivetti di Ivrea e beh quello era un modello io sono stato uno degli ultimi capi del personale nell'Olivetti di Ivrea e ricordo l'emozione quando sono stato non andato per la prima volta in ufficio mi staveremo la scrivania del capo del personale precedente che era un romanziere un grande romanziere Volponi cioè un'azienda che nomina capo del personale un romanziere è già un'azienda che ha un'idea molto diversa di quello che deve succedere e voi la cosa la trovevate in giro dappertutto nello stabilimento di Scarmagno dove noi producevamo i personal computer se voi andavate nello stabilimento di Scarmagno mi ricordo la prima volta che sono andato sono rimasto veramente sorpreso lungo le pareti dello stabilimento dove correvano i cicli di produzione sostanzialmente quindi c'erano tutti i banchi su cui si montavano i computer eccetera eccetera non c'erano già più le linee c'erano le isole eccetera voi trovavate che tutte le pareti erano occupate da librerie con libri e ognuno del personale presente quindi operai tecnici eccetera eccetera aveva la possibilità uscendo la sera di prendersi tutti i libri che voleva per sé per i figli e non c'era nessun obbligo di restituzione non c'era nessun obbligo di restituzione quando cominciò a svilupparsi vuoi dire il mito dell'Olivetti anni 50 anni 60 eccetera eccetera sapete che l'Olivetti è la prima che ha costruito un mainframe al mondo è la prima che ha fatto i personal computer noi li fornivamo agli americani i personal computer io ho visto partire gli M20 va bene a decine di migliaia che andavano in America alla TNT americana li fornivamo noi l'Olivetti era la prima azienda che aveva un centro di ricerche in Silicon Valley quando non c'era nessuno in Silicon Valley era alla fine degli anni 50 per dirvi com'era andavano in visita molti giornalisti e c'era nel viaggio in Italia di Piovene che è stato un grande un grande reportage quando Piovene andò a a Ivrea a vedere come funzionava l'Olivetti lui parlò di una cosa che a me è rimasta molto impresta esisteva nell'azienda un'educazione un'educazione atmosferica cioè l'aria il clima era già educativo già formativo perché viseva il contagio del gusto nel senso che c'era un gusto tale nella ricerca degli elementi spaziali architettura design eccetera eccetera che in qualche modo contagiava e contaminava tutte le persone ma che cosa derivava derivava dal fatto che il capo dell'Olivetti Adriano Olivetti era un personaggio che aveva un progetto un'idea chiara e l'ha sviluppata fino a quando poi non è morto improvvisamente facendo purtroppo la disgrazia dell'Olivetti morì in treno andando in Svizzera per un infarto lui aveva una tecnica molto semplice le selezioni le faceva lui delle persone e quando doveva selezionare le persone aveva un metodo di questo tipo la prima domanda che gli faceva qual è l'ultimo romanzo che hai letto perché se non avevi letto il romanzo o dicevi di aver letto il romanzo e poi non lo sapevi raccontare tu eri scartato perché nella sua idea il romanzo aggiunge alla tua formazione la competenza sentimentale emotiva che è importante siccome le aziende sono emotivamente analfabete avere dentro persone che in qualche modo avendo letto essendosi in medesimato sanno che le storie sono importanti perché le storie parlano e se tu sai creare una storia all'interno di un'azienda quell'azienda non ha difficoltà a mantenere i suoi dipendenti non ha difficoltà ma se tu non gli dai una storia non gli fai vivere niente di emozionante è chiaro che quelli alla prima occasione se ne vanno quindi questa è la prima cosa e poi c'è un altro caso singolare che secondo me vale la pena a un certo momento lui doveva selezionare il direttore generale per la cultura perché c'era un direttore generale per la cultura e ne scartò vari fino a finché non arrivò un giornalista che era un giornalista importante e Olivetti Adriano gli fece la domanda che aveva fatto a tutti gli altri cos'è per lei il contrario di peccato poi pensate se noi dovessimo selezionare i nostri manager facendo domande di questo tipo ci prenderebbero fermati oggi cos'è per lei il contrario di peccato il giornalista ci pensò su un po' e poi dice ma secondo me è la grazia il contrario del peccato è la grazia oh finalmente perché se lei mi avesse detto la virtù io l'avrei scartata e l'ho presa capito allora le aziende di questo tipo che purtroppo non dico che sono morte ma non ce ne sono più tante per un ragazzo che entrava dentro erano una manna tenete presente che quando entrava qualunque competenza tu avessi qualunque laurea tu avessi o diploma finivi alla catena di montaggio per sei mesi andavi alla catena di montaggio perché dovevi capire come si viveva che cosa si produceva come vivevano gli operai non c'erano santi mi sono fatto la catena di montaggio anch'io con la mia manualità scarsissima per cui ero normalmente sbeffeggiato bene questa era la condizione prima con cui dovevi misurarti perché se non funzionava questo non funzionava nessun altro però la cultura di Olivetti che ancora adesso è una cultura viva perché poi Olivetti è quello che ha sparso management in tutte le aziende italiane tutte va bene ancora in questi giorni c'è un richiamo potentissimo quello che esca una fiction anche su Olivetti è un richiamo potentissimo perché era un luogo in cui le cose succedevano per il benessere delle persone che c'erano per il benessere delle persone che c'erano cioè c'è un posto in cui gli operai avevano una mensa straordinaria e dopo mensa avevano mezz'ora per andarsi sentire musica sopra la messa sentire musica e leggere i giornali potevano farlo poi si tornava a lavorare ecco questi sono ambienti che andrebbero ricreati ma ci vuole come dire passione ci vuole un progetto ci vuole storia guardate che quando Olivetti andò Adriano aprì a Pozzuoli non so se voi siete mai stati a Pozzuoli io poi a Pozzuoli ci ho messo dopo il centro per il sud di Omnitel Vodafone quando andai a fare Omnitel Vodafone voi andate a vedere come è organizzata la struttura architettonica di Pozzuoli ogni operaio ogni tecnico dal posto di lavoro deve poter vedere il mare e gli edifici sono disposti in maniera tale che ognuno lavorando veda il mare perché dice questi sono gente che è sempre campata al mare non possiamo ridurre il lavoro a qualcosa di diverso dalla loro vita il mare è una costante che loro devono avere sempre davanti e questo era questo è il modo con cui si potrebbero creare le condizioni per cui si entra nel mondo del lavoro e si entra nel mondo del lavoro con la soddisfazione di entrarci non con la preoccupazione o con la paura non sono all'altezza vedevo che Romano Benini annuivi allora molti hanno pensato che Olivetti fosse un pazzo un utopista soprattutto allora in realtà è semplicemente stato forse da un lato un precursore e dall'altro forse una persona che era assolutamente consapevole dei punti di forza delle caratteristiche del modello economico e civico italiano lui tendenzialmente conosceva che la grande fase di sviluppo che l'Italia ebbe per alcuni secoli partiva dalla creazione di una comunità operosa che permette la bottega artigiana del rinascimento o altro la promozione delle competenze e la diffusione della conoscenza la sua grande sfida è stata quella di farlo non soltanto per i manager e i progettisti creare questi luoghi ma di farlo anche per coloro che stanno nella produzione oggi se andiamo nella Silicon Valley vediamo che sicuramente questo spirito questo atteggiamento è trasferito nei luoghi della progettazione della conoscenza la grande sfida di Olivetti credo sia stato quello di sapere che questa cosa poteva essere possibile anche per chi sta in produzione e qui c'era la sfida della comunità quindi il senso di comunità io credo anche che essendo un uomo di profonda cultura lui era perfettamente consapevole del fatto che la comunità che opera che lavora è alla base della capacità appunto di creare non soltanto crescita economica ma anche sviluppo sociale e quindi la connessione tra il capitale culturale e lo sviluppo sociale che crea poi un risultato economico bene però questa è una storia italiana ed è una storia italiana che per tanti motivi ha a che vedere oggi credo e spero con gli stimoli che ci arrivano da questa nuova fase del capitalismo e che in fondo la tecnologia ci aiuta gli avversari li abbiamo intorno a noi e li aveva anche Olivetti quando purtroppo Olivetti è morto ci fu una riunione a Mediobanca e in quella riunione qualcuno decise vabbè insomma Olivetti ha fatto un po' di debiti per investire sull'informatica e ha creato queste cose qui questi computer computer da tavolo poi venne dopo che facciamo e qualcuno disse bene salviamo Olivetti ma estirpiamo quel neo che si chiama informatica e quella persona era l'amministratore delegato era Fiat vero? quindi i nemici ce li abbiamo dentro evidentemente c'erano altre logiche forse un po' più arvetrate fatto che comunque quei brevetti finirono in mano agli americani e costituirono la spinta oggi la perrottina la trovate al MoMA e sono credo che fu risarcito l'ingegnere con un dollaro per aver inventato il personal computer però vedete la realtà italiana che è eccellenza e che primeggia è una realtà che tiene insieme sa tenere insieme appunto rompere gli schemi tenere insieme la cultura umanistica la cultura scientifica sapendo sempre guardare con senso critico al cambiamento abbiamo dei riferimenti però dobbiamo guardarci molto spesso dai nemici che abbiamo in casa e allora quali sono i nemici della scuola mi viene da chiedere nemici della scuola nemici della scuola così semplicemente non mi sento di dire che ce ne sono sicuramente c'è una visione non condivisa da molti per cui la scuola in Italia sostanzialmente è un grande ammortizzatore sociale inutile nasconderse la scuola in Italia serve più che altro a dare lavoro a tante persone che questo per lavoro non viene particolarmente valutato non viene neanche preso in considerazione non viene valorizzato è anche poco retribuito per carità e soprattutto non c'è una connessione tra l'impegno i risultati e la retribuzione e questo è un qualcosa che in generale è insano e in particolare in un'attività che dovrebbe essere molto impegnativa e che lo è sicuramente anche dal punto di vista emotivo per chi ci si impegna davvero è qualcosa di molto frustrante allora più che nemici io penso che da noi ci sia uno scarso senso una scarsa consapevolezza di quella che è la scuola e di quello che è il suo ruolo noi tutti parliamo di scuola però poi quando ci si chiede davvero sì ma a che cosa serve il sistema educativo questa è una domanda che ci poniamo poco e sulla cui risposta credo che potremmo avere idee molto diverse in altri termini la scuola non serve soltanto a istruire questa è una riduzione assolutamente inaccettabile la scuola serve a fare molto di più si parlava prima di soft skills oggi va di moda utilizzare questa espressione la scuola deve insegnare la capacità di convivere di convivere civilmente di cooperare di collaborare non è banale non è banale per nulla nel nostro retaggio culturale in fondo si tende a pensare che l'educazione è quello che la deve impartire la famiglia la scuola deve occuparsi dell'istruzione questa è una visione assolutamente obsoleta d'altronde la stessa etimologia di educare significa proprio tirar fuori dal ragazzo dal bambino quello che c'è in lui e quindi è proprio il compito della scuola ma insegnare a comportarsi o meglio far capire come comportarsi con gli altri in un certo modo non è banale aggiungo che i sistemi scolastici che hanno anche i migliori risultati nelle varie classifiche OX poi possiamo parlare della Finlandia vi cito l'Estonia ma potremmo prenderne altri in realtà dedicano moltissima attenzione a questo al fatto che nei rapporti tra gli studenti ci si comporti con vi utilizzo questo termine gentilezza perché è molto importante perché se non si impara da piccoli a comportarsi in questo modo se non si ha l'abitudine se non si ha una naturalezza nel fallo da quando si hanno cinque anni fino a quando si esce a 18-19 i guasti sociali sono notevoli e poi si rischia di non recuperarli mentre invece questa storia dell'istruzione l'istruzione serve naturalmente come si diceva prima non si tratta tanto di riempire delle teste si tratta di far sviluppare delle competenze ma queste competenze devono essere sviluppate devono crescere in un terreno fertile che è quello della cooperazione che in fondo è uno dei nostri punti deboli noi non difettiamo per genialità noi difettiamo per capacità di mettere a sistema per capacità di aggregare il discorso delle micro imprese in queste aziende in cui non ci si affida a un manager professionista ma si preferisce tenere tutto nella famiglia diciamo che è proprietaria per tenere il controllo perché si ha paura di perdere il controllo e questo è un fatto culturale e come si fa a cambiare i fatti culturali ancora una volta serve molto tempo e serve sicuramente uno sforzo anche da chi diciamo da chi fa parte della classe politica mi dispiace ritornare sempre lì ma serve una politica è vero non possiamo continuare ad avere un discorso politico asfittico e frammentario come quello al quale abbiamo assistito in questi tempi l'esempio di Olivetti è veramente unico nel suo genere il problema è che ce ne vorrebbero tanti allora dobbiamo riuscire a come dire a assorbire questi germi di innovazione questi germi di modernità che in altri paesi sono la norma e andare avanti con questo citavo l'Estonia l'Estonia è un paese che si vanta di avere il minor numero di ore di lezione dell'Unione Europea ed è come risultati scolastici al secondo posto dietro la Finlandia loro di questo ne fanno un vanto e quindi questo dovrebbe anche farci riflettere perché poi da noi si sente dire si fanno poche lezioni di aggiungiamo un'ora di poi aggiungiamo un'ora di poi aggiungiamo un'ora di non serve a niente non è così che si impara qualcosa quindi impariamo da chi ha riuscito a ottenere risultati migliori Presidente Carella e così concludiamo cosa vi aspettate dalla scuola in termini di conoscenza dei ragazzi che poi arrivano da voi con cui voi vi confrontate dalla scuola intanto maggiore collaborazione con noi io credo che dialogare con noi sia importante perché come diceva i professori non bastano ci vogliono i maestri noi siamo maestri nel saper fare nel saper progettare quindi io credo che una maggiore relazione una maggiore integrazione con la comunità manageriale sia importante non a caso abbiamo firmato noi un accordo con ANP con i presidi per l'alternanza scuola-lavoro mettendoci a disposizione con il nostro progetto Food for Mind che è all'interno di quel portale quindi maggiore collaborazione credo che possa portare bene i nostri ragazzi e poi faccio una proposta mutuando da Olivetti un rapporto 1-10 al mio noto dei professori delle scuole che potrebbe essere sufficiente credo grazie a tutti